Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Nella puntata di oggi andrò a cambiare le pelli alla mia batteria. Probabilmente il risultato finale a livello estetico non sarà molto diverso da quello che vedete perché ho comprato delle pelli sabbiate di un altro modello rispetto a quelle che uso solitamente. Proprio per questo ho deciso di cogliere l'occasione per fare questo video. Quindi farò l'unboxing. Unboxing vabbè. Quindi vi farò vedere le pelli che ho comprato. Assicurati di restare fino alla fine del video perché ti lascerò una chicca diciamo un regalino che secondo me ti piacerà molto. Quindi intanto sigla e dopo andiamo a vedere di che pelli parliamo oggi. Ce le ho qua. Prima di dirvi che pelli ho comprato assicuratevi di esservi iscritti al canale di aver attivato la campanella. Allora ragazzi che pelli sono andato a comprare? Io sono un affezionato delle pelli Evans. Penso che gli esperti o comunque chi suona la batteria da tanto tempo abbia riconosciuto la marca delle pelli già dalla scatola. Io ho sempre suonato sia Remo che Evans. Negli ultimi anni mi sono molto indirizzato alle Evans. Dopo vi spiegherò anche il perché. E il nuovo acquisto che ho fatto è un set di pelli per i Tom. Le pelli che ho comprato sono delle Evans UV2. Sabbiate. 10, 12, 14. Le andiamo ad aprire. La cosa bella dei pack della Evans è che arrivano nella scatola di una pelle da 14 ma dentro c'è il set di pelli. Probabilmente anche la Remo le fa così. Ditemelo nei commenti perché non lo so. Wow. Ok. Eccole qua. Tutte e tre. Allora noto subito già questa cosa che abbiano la sabbiatura però sul bordo sono trasparenti. Non l'ho mai vista questa cosa quindi veramente bello. La cosa che mi piace molto delle Evans è che loro già nella scatola ti danno delle indicazioni per il tipo di pelle che è. Giusto se vi interessano queste pelli vi lascio il link in descrizione. Ho letto più pareri online e ho visto che tutti proprio dicono che hanno una durata molto più lunga delle pelli normali. Quindi mi sono molto incuriosito e anche un po' insospettito perché a logica ho pensato vabbè dureranno di più perché saranno più spesse. No? È la prima cosa che mi è venuta in mente. Di conseguenza se sono più spesse avranno meno risonanza eccetera. Comunque il fatto sta che mi sono fatto prendere dalla curiosità e dai dubbi e le ho comprate. E adesso le andiamo a montare. Quindi smonto le pelli vecchie e ci rivediamo tra pochissimo che montiamo quelle nuove. Vi ho tanto amato. Tornerò da voi un giorno. Vi voglio bene. Ok ragazzi allora le ho montate. Ve la faccio vedere su un tom. Bellissima questa cosa che sia sabbiata all'interno. È molto bello perché riesco a vedere il bordo in legno. Quindi esteticamente veramente veramente carine. Perché mi piacciono molto le Evans e perché da anni ormai compro quasi solo pelli Evans. Durano di più. Non voglio scatenare diatribe o litigi perché ho suonato suono tuttora ogni tanto qualche pelle Remo. Suonano benissimo. Veramente da dio. Infatti sono poi due marchi top. Remo e Evans. Però Remo mi durano di meno le pelli. È una cosa soggettiva. Non vi offendete. Ogni batterista usa certi modelli di pelle. Quindi forse è sbagliato anche da parte mia dire che le Evans durano di più. Diciamo che per i modelli che uso io le Evans hanno una dorata più lunga. Do un'accordata molto veloce. Dopo andiamo a sentire come suonano. L'ho accordata abbastanza bassa. Vi faccio sentire prima come si sente dalla videocamera. Dopodiché vi farò sentire come si sente dai microfoni. Voglio proprio darvi la full experience. Vado. con i microfoni. bellissimo il suono. Mi piace veramente un sacco. Provo ad accordare le pelli ancora un po' più acute così vediamo come suonano. Ripeto voglio darvi la full experience. Ok ragazzi allora personalmente mi piace di più l'accordatura un po' più bassa però sono gusti personali quindi fammi sapere nei commenti quale accordatura ti è piaciuto di più o se non te ne è piaciuta neanche una perché è possibile. Allora voi non l'avete vista perché l'ho tagliata la parte in cui accordo i tom però vi posso assicurare e non è per fare il lecchino con la Evans. Le ho montate, ho dato veramente pochi giri e ci ho messo pochissimo ad accordarle. Voto 10 per la facilità di accordatura. Come vi dicevo all'inizio del video vi svelo questa chicca, questo consiglio che mi sento di darvi. Perché mi piacciono molto i prodotti Evans? A parte che hanno una qualità incredibile mi piacciono molto come suonano. Ma poi la Evans fa questa cosa che non tutti conoscono che si chiama Daddario Players Circle ovvero il circolo dei musicisti della Daddario. La Daddario è un'altra marca e fa sempre parte della famiglia Evans. Hanno un sito internet che è fatto apposta per i musicisti, per gli insegnanti, insomma per chi suona. Qual è la figata di questo sito? Che il circolo della Evans marchia ogni prodotto con un codice. Il codice che andate a trovare in ogni prodotto, le trovate sulle bacchette Promark, le trovate sulle pelli Evans e su tantissimi altri accessori. Con quel codice voi accumulate punti nel loro sito. A cosa servono questi punti? A comprare tramite questi punti altri accessori. Io ormai negli ultimi 2 o 3 anni secondo me almeno 4 o 5 pelli me le sono fatte spedire a casa proprio grazie a questa cosa qua. Ed è una cosa che la Remo non penso lo faccia, non ne ho mai sentito parlare. Trovo che sia una cosa molto molto bella per fidelizzare appunto i clienti ma anche perché dai valore appunto a chi acquista il tuo prodotto e la trovo una cosa veramente bella. Quindi se voi negli anni avete acquistato prodotti Evans, Promark, spero che non abbiate buttato le scatole perché all'interno ci sono i codici e i codici valgono per accumulare punti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi sono piaciute, se non vi sono per niente piaciute, se siete fedeli alla Remo, insomma apriamo un po' questo discorso perché sono sempre molto curioso. Probabilmente farò anche un video sul rullante, quindi se avete dei consigli per delle pelli stratosferiche per il rullante lasciatemele pure nei commenti, non mi interessa la marca, non devono essere per forza Evans. Bene, detto questo iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi questi video. Spero che vi piacciano e spero di portarvi sempre dei contenuti nuovi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!